A conclusione dell'ultimo consiglio generale dell'Unione dei Comuni Pestum Alto Cilento, Franco Alfieri, sindaco di Capaccio Pestum, è stato eletto presidente dell'Unione stessa. Ringrazio il mio predecessore Massimo Farro per il lavoro svolto, dichiara Franco Alfieri. Ringrazio i miei colleghi sindaci, componenti del Consiglio, che mi hanno voluto accordare la loro fiducia. Sono contento e onorato di poter guidare un organismo che, nato nel 2004, mette insieme nove comuni, città di Capaccio Pestum, città di Agropoli, Cicerale, comune di Laureana Cilento, comune di Lustra, amministrazione di Piregnano Cilento, per di Fumo, comune di Rutino, comune di Torchiara, andando a formare una comunità di ben 53.000 abitanti. Metterò in questa nuova avventura tutto l'entusiasmo, la passione e la dedizione che da sempre contraddistinguono il mio impegno politico e amministrativo, sottolinea Alfieri. La parte di territorio che l'Unione dei Comuni rappresenta è una delle più straordinarie del mezzogiorno, contraddistinta da risorse ed eccellenze che vanno dal parco archeologico di Pestum al mare blu di Agropoli e del Cilento, passando per gli splendidi paesaggi collinari. Arte, turismo, agricoltura, enogastronomia, questo territorio ha tanto da offrire e sono certo che noi tutti insieme faremo un grande lavoro per valorizzarlo al meglio, conclude il Presidente dell'Unione Comuni Pestum Alto Cilento, Franco Alfieri.